Il Comitato per la Qualità della Vita, presieduto dal professor Carmine Carlucci, insieme all'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ha deposto un mazzo di fiori al monumento ai caduti per rendere omaggio alle vittime della notte di Taranto del 1940 e dell'attentato di Nassiria. L'intento è quello di non dimenticare una pagina di storia che ha colpito profondamente la nostra città e per ricordare tutti coloro che hanno dedicato la propria vita agli ideali di pace e di libertà. Inoltre, il Comitato invita la cittadinanza ad accendere un lume vicino alla finestra alle ore 19 per omaggiare i caduti, ma anche le vittime del Covid-19. Il Comitato per la Qualità della Vita, insieme all'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, anche quest'anno ricorda la notte di Taranto, un avvenimento tragico purtroppo dimenticato anche dai nostri cittadini, ma noi in questi 30 anni abbiamo cercato sempre di coinvolgere gli studenti a leggere questa pagina di storia. Ci ha aiutato nella ricerca l'ammiraglio Claudio Confessore, non solo con riferimento alle 48 vittime della notte di Taranto, ma agli oltre 170 caduti da Caporetto alla Grande Guerra. Un impegno che noi intendiamo continuare e di qui l'appello ai cittadini per chi alle 19 accendano un lume alla finestra per i caduti della notte di Taranto e nella fattispecie per le vittime del virus. Questa è un'ottima occasione per ricordarci della pace. Come sapete, io ho voluto fare come primo atto amministrativo una delibera sulla pace. Taranto è sicuramente un avamposto sul Mediterraneo che può rappresentare per tanti versi la necessità di pace. Ricordare i nostri caduti nelle operazioni di guerra e tenere a mente che la pace è un atto di scelta, non si costruisce per caso, è qualcosa che rafforza l'identità e ci mette nella condizione di risentire le nostre origini. Quanti hanno dato la vita per noi e quanti l'hanno persa in situazioni tragiche come la guerra o anche in situazioni di violazione dei diritti umani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.